Abiti in un condominio e ti sei stufato del tuo amministratore di condominio e quindi sei andata alla ricerca dei motivi per i quali lo stesso può essere revocato dal proprio carico? Ebbene, le ragioni di un'eventuale revoca dell'amministratore di condominio vanno rintracciate nella cosiddetta malagestione del condominio che si configura quando vi siano gravi regolarità nell'esecuzione del suo mandato, così come viene indicato dall'articolo 1129 del Codice Civile. Andando subito nel concreto, un motivo di revoca è certamente quello quando l'amministratore condominiale non convoca l'assemblea per diversi anni e quindi non permette ai condomini di approvare i bilanci sia preventivo che consultivo. In buona sostanza questo si verifica quando l'amministratore di condominio manda solo i bollettini di pagamento per la gestione del condominio, senza però dar contesse ai condomini di cosa stanno pagando. Un secondo motivo di revoca dell'amministratore di condominio è quando lo stesso commetta gravi regolarità fiscali, ovvero bilanci spazzati dove sono riportate delle spese senza però che le stesse abbiano un giustificativo oppure quando vi è una non corretta contabilità. Un terzo motivo di revoca dell'amministratore di condominio è la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi nonché di deliberazioni dell'assemblea. Per esempio l'assemblea condominiale ha deliberato di eseguire dei lavori e l'amministratore di condominio non ottempara la volontà dei condomini. Un quarto motivo di revoca è quando vi è una gestione secondo modalità che possano generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini. Un quinto motivo di revoca può essere quello di mancata vise condomini di azioni giudiziarie intraprese da tezzi nei confronti del condominio. In ultimo altro motivo di revoca può essere quello quando l'amministratore di condominio non ottemperi alla propria formazione annuale ovvero non partecipi ai cosiddetti corsi di formazione. Detto questo vi ricordo come per azionare una domanda di revoca del tuo amministratore di condominio occorra necessariamente passare per la mediazione e solo dopo in caso di esito negativo procedere presso il tribunale. Bene se il video ti è piaciuto ti invito a iscriverti al canale ove non l'avessi già fatto di modo da non perderti tutti gli altri video che andrò ciclicamente a postare. In descrizione poi vi lascerò tutti i miei recapiti. Vi auguro una buona giornata e o serata a seconda dell'orario nel quale stai guardando questo contenuto. Ci vediamo alla prossima.